Ciao a tutti, io sono qua con il mio tè per parlarvi di un libro, ovvero, o meglio, una graphic novel. È un argomento che non ho mai trattato sul mio canale per il semplice fatto che pur piacendomi non ne ho lette così tante. Ad esempio ho letto Blue è il colore più caldo, Blue is the warmest color, poi mi piacciono molto le graphic novel di Giacomo Nanni che io apprezzo tantissimo. Ho letto, ho visto, cioè letto, ho più guardato questa graphic novel bellissima che si chiama Here, non mi ricordo l'autore comunque, ve la consiglio, se mi viene in mente chi l'ha scritta, anzi ve lo cerco, in italiano è stato tradotto come qui, Here graphic novel, Richard Maguire è possibile? Sì, è fighissimo, andatela a leggere, è bellissima. Oggi invece vi voglio parlare però di un'altra graphic novel che è The Passenger di Carlo Carlei, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. È una graphic novel che mi è stata inviata dalla casa editrice Tunue, che ringrazio tantissimo, che mi hanno dato questa possibilità di una collaborazione, ovviamente in qualsiasi caso, qualsiasi recensione anche di collaborazione non dovete preoccuparvi, io manterrò comunque la mia opinione sempre senza filtri e parecchio guerrita. Questo libro è basato, mi ha incuriosito, per quanto io non sia un fan delle storie a stampo mafioso, mi ha incuriosito perché comunque è basato su una sceneggiatura cinematografica, infatti Carlo Carlei è un regista, è un regista che è diventato famoso grazie al cult La Corsa dell'Innocente, ma è anche famoso per uno dei miei film di infanzia preferiti, che ho scoperto che è su, ho detto, oh mio Dio, che è Fluke, che è uno di quei film con i cani anni 90, però è l'unico bello secondo me sui cani anni 90, mi aveva emozionato da piccolo e tuttora lo ricordo con estrema nostalgia, è appunto un regista italiano che poi ha trovato il successo grazie a Hollywood e questa storia nasce come una sorta di seguito ideale del suo primo film e è sempre stato comunque un regista appassionato anche all'arte del fumetto e secondo me questo libro, per quanto non sia esente da difetti, nel senso ci sono delle cose che non mi hanno convinto, proprio a livello di narrazione, però forse per la mia per la mia lontananza dal genere, convince invece per la perfetta fusione tra cinema e fumetto, infatti le impostazioni delle tavole, proprio la scelta del quadro è estremamente cinematografica, anche come ritmo, come impostazione della storia, è proprio un film alla fine, ha un ritmo serrato, cioè io me lo sono divorato in un'ora, non lo so, no, in un'ora no, però in una serata sì, io vi sto cercando in particolare due pagine per dimostrare quanto è figo a livello visivo, ad esempio questa pagina qua a me è gasato molto, sono rimasto a fissarla non so quanto, a livello grafico è proprio fico, cioè ha questi disegni delicati con colori tendenti all'autunnale, al desaturato, ci sono anche dei pezzi in flashback in seppia e l'uso delle luci mi è piaciuto, mi è piaciuto molto a livello visivo, poi le graphic novel in generale devono essere curate. A livello narrativo invece la storia l'ho trovata molto molto semplice, nel senso non neanche così tanto originale, però non è tanto la storia che mi ha incuriosito quanto il modo avvincente in cui è raccontata, secondo me c'è una perfetta fusione tra la creazione della suspense, se vogliamo, della tensione e l'uso delle tavole che sono funzionali alla narrazione, nel senso la storia molto semplice, è quella di questi due coniugi americani in Luna di Miela Palermo che volenti o nolenti, più nolenti che volenti, rimangono invischiati in un affare di mafia perché vengono presi come ostaggio da un importante boss mafioso, spietato, che vuole sfruttarli per poter portare a termine dei suoi crimini per pareggiare dei conti, per punire i traditori. E quindi la moglie viene presa in ostaggio da un braccio destro del capo, mentre il povero nostro protagonista inconsapevole diventa l'autista di questo boss mafioso che lo trascina con sé in una notte di sangue dove moriranno un sacco di persone, ne succederanno di ogni, sparatorie, omicidi, la polizia che indaga stale calcagna, la classica storia che ti tiene incollato non tanto per la storia in sé ma per come si ammucchiano continuamente fasi di tensione, di suspense, infatti io non vedevo l'ora di sapere come andasse a finire. Infatti la chiusura è riservata a un colpo di scena che io non mi aspettavo sinceramente, mi ha lasciato abbastanza inebetito e mi è piaciuto questo cambio repentino della narrazione. Tuttavia da un'altra parte non mi ha convinto perché ho dovuto rileggere tutta la prima parte in un'ottica diversa e quindi secondo me è un colpo di scena che funziona a metà, nel senso funziona a livello di intrattenimento perché a me ha colpito particolarmente, però a livello proprio di coerenza narrativa non lo so, dovrei riguardare ma non mi ha lasciato dei dubbi diciamo, anche perché dopo si disperde in una certa dose di retorica che comunque è funzionale alla storia che si vuole raccontare perché è una storia palesemente scritta per onorare comunque coloro, gli onesti o comunque coloro che lottano contro la mafia, quindi Falcone, Borsellino. È una graphic novel basata su quello alla fine, quindi raccontare una storia di tensione che poi riporti le cose al proprio posto. È una storia che però non parla solo di quello ma parla anche di giustizia e di ribaltamento della vendetta, la vendetta che non è più dente per dente, occhio per occhio, che è già una prospettiva interessante. La cosa interessante comunque che per quanto la storia l'abbia trovata a tratti molto basic, no? Molto semplice, già rivista, 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 ho apprezzato invece la caratterizzazione dei personaggi che secondo me qui è molto interessante. Ad esempio il boss mafioso per quanto sia spietato, per quanto sia proprio senza cuore quasi all'inizio, venga rappresentato proprio come un cattivo, il cattivo. In verità nel corso della lettura si mostrano anche dei suoi lati estremamente umani, gentili, estremamente profondi, un certo tipo di profondità però non profondi del tipo che, oh mio Dio, chissà come filosofeggia. Però ho apprezzato molto questa caratterizzazione perché si crea una sorta di complicità quasi tra il protagonista e il boss, no? Una complicità, un odio barra empatia molto particolare e c'è un'ottima costruzione a livello psicologico nella narrazione dei personaggi che è la cosa che mi ha convinto insieme al ritmo, insieme al non lasciare mai un attimo di sospiro, no? E comunque è una storia che vi tiene incollati perché non ha mai delle pause, non ha mai dei momenti di calma. Succede tutto così, rapidamente, ma mai troppo rapidamente per poter scivolare via. Vi tiene veramente, vi avvolge, vi avvince. Mi è piaciuto per questo. Come vi ho detto, alcune cose non mi hanno convinto, tipo la chiusura della storia che secondo me lascia presagire delle incoerenze che poi devo verificare, però mi è sembrato tutto proprio un colpo di scena che capovolge tutto, però allo stesso tempo lascia delle cose insolute e ovviamente non voglio dirvi come finisce per evitare spoiler. Fatto sta che ve la consiglio, questa graphic novel, sì, sì, ci sta, è un'ottima lettura, a livello visivo mi piace molto, invece, e ve lo consiglio ovviamente se siete amanti del genere, sia graphic novel in generale che soprattutto storie legate al mondo della mafia, oppure thriller, oppure anche il cinema di genere, se vogliamo il poliziottesco, no? queste cose qua, ve lo consiglio. Sì, è stata un'ottima lettura, io ringrazio la Tunue per questa possibilità, per questa collaborazione e niente, fatemi sapere se conoscete già questa graphic novel, se la leggereste, se vi interessa, se non vi interessa, io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!